Qualcuno di questi soldati l'italiano non lo parlava per niente in particolare sono questi due fratelli, anzi fratellastri delle vali bergamasche Gervasoni Annibale Carminati Egidio, cognome diverso perché due tori ma la stessa vacca come si dice e sono fratellastri un po' come Cainabele si ritigano sempre fra di loro e parleranno una lingua sconosciuta ai più, non li abbiamo neanche sottotitolati perché così chi capisce capisce basta, quella volta era così, il dialetto era dialetto e fa anche tanto ridere, Gervasoni e Carminati, alpini della bergamasca Grazie